Allora, come si chiama lei? Iralio Onorato E qual era la sua esperienza qua dentro a Capitito? E' un'esperienza che era bellissima Ci aiutavo ad andare per latte Ci aiutavo a fare il formaggio E per me è una cosa bellissima perché è stata Perché è una cosa come vivente Capito? Fai il formaggio nella caldaia Poi lo prendi su, poi lo lavori Poi lo vedi diventare bello Poi buono da mangiare Buono da mangiare Era bellissimo, a me piaceva molto E praticamente quanti anni ha lavorato in questo? Ci avevo lavorato una decina di anni Perché sono andato, vent'anni ci avevo Una decina di anni E praticamente come Che formaggi producevate? Qua facciamo il grano, il parmigiano C'è un ricordo Ah, perché io ho avuto dei bei ricordi Per esempio? Perché mi dava da lavorare E mi dava da mangiare Allora, era una struttura importante per Palanzano? Senz'altro Senz'altro, venivano a prendere il burro Venivano a prendere il formaggio Andava bene allora E perché era così tanto importante? Perché faceva lavorare della gente C'era la famiglia del Cascinaio Poi c'erano gli operai Quanti operai c'erano per lui? E c'erano io e un altro Ma di solito c'erano sempre io Ok Qui andava dentro Andava nelle bacinelle In acciaio inossidabile Di lì al mattino si tolgeva Si mettevano i vasconi di rame E si faceva il formaggio E invece tipo l'albero? Beh qua Là c'era C'era il garage Poi c'era il granaio Per dare da mangiare i maiali Là in fondo Quello in fondo Era tutto il costo dei maiali Ci saranno stati un 200 250 maiali Ricordo che li prendevamo piccolini Altri così E poi dopo Ci davamo da mangiare Era bello vedere Che animali a crescere E diventava bello Dopo ci facevano i presiutti E si mangiava Quindi lei ha iniziato A che età a lavorare? 20 anni? Forse è stato 20 anni 20-21 anni E per esempio Un momento Che rende C'è l'ha reso orgoglioso? A me sì Perché a me piaceva Fare questo lavoro Quindi era sempre orgoglioso? Sì Perché è un lavoro Che quando venivano A battere il formaggio Si era bello La bravura Era del cacinaio E dell'aiutante Si andava male Allora si vede Che erano stati capaci Di lavorare bene Era bellissimo A me piaceva molto E quante ore E quante ore lavoravate al giorno? Alle ore Sette giorni su sette Quindi tutti i giorni? Stavo su Al mattino le cinque Che allora non c'era mica A fare otto ore Poi si veniva a casa No? E si facevano le ore Che si voleva In un giorno Quanti vi ricacevate? Andavo Zibana Trevignano Isola Caneto Palanzano Selvanizza E quindi dappertutto Andavamo dappertutto E il giro era Scusate Per prendere il latte Si E poi? Io facevo Caneto Trevignano Zibana Isola E poi venivo a casa L'altro facevo Palanzano Selvanizza E basta Dopo di là C'è la Valdenza Che era Quello di Vairo Un po' la struttura La struttura Adesso si vede Che è malmessa Da sotto c'era C'era Quando si potevano Mettere dentro Il formaggio Nella sala Mola Che veniva Il formaggio Poi dopo Le mettiamo In scalone Là c'era tutto E sotto Ci mettiamo Il formaggio E sopra c'era L'appartamento E qua c'era La sala Dove L'appartamento Il formaggio E nell'appartamento Che viveva? E cacinaio Ok E quindi sotto C'era la stagionatura Questa stagionatura Quindi quelli sono Gli appartamenti Dove vivevano Di sopra Tutto l'appartamento Chi li ha impegnato A lavorare? Beh Il cacinaio Il mio padrone Era Ah poi Non c'era Neanche tanto Da imparare Perché ti prendi Sul camion Andai a fare Al giro del latte Allora si pesava Il latte Si tenava Sulla bilancia Poi si pesava Gli etti 20 e un etto 22 etti Ok 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 Ok